ho letto una storia vera l'altro giorno che mi ha lasciato così un uomo ha fatto parte di un corso di arti marziali alla fine era bravissimo e l'istruttore ha detto agli studenti voi siete delle macchine da uccidere siete fortissimi e questo uomo io sono fortissimo io sono fortissimo e l'istruttore ha detto voi potete uccidere un leone cosa ha fatto questo uomo è andato allo zoo ha salito le recensioni e si è buttato dentro la recensione del leone eri stato ucciso subito da leone è una storia vera è successo non tanto tempo fa quel uomo era convinto di essere fortissimo abbastanza da ammazzare con le mani un leone domanda secondo voi quel uomo aveva un concetto sobrio di se stesso quello che credeva di se stesso era vero era vero oppure credeva di essere più forte e capace di quello che era è chiaro che si era auto ingannato di essere molto più forte di quello che era aveva un concetto di se stesso che non rispecchiava la verità e nel suo caso gli ha costato la vita ma non sono solo nei casi così estremi che le persone le persone si credono migliore o più forti o più bravi o più intelligenti di quelli che sono infatti facilmente noi tutti tendiamo a vederci in modo superiore alla realtà questa è la nostra tendenza per esempio di natura noi vediamo i nostri peccati meno gravi di quelli che sono eh sì è vero non avrei dovuto fare quello eh sì devo impegnarmi come se fosse una sciocchezza il motivo che ci vediamo in modo falso è il nostro orgoglio il nostro orgoglio rende molto difficile per noi di vederci in modo onesto e giusto la nostra tendenza è di vederci in modo superiore a quello che è la realtà e questo ci porta tanti problemi e ci fa mancare tante benedizioni l'unica cura a questo questa malattia di voler vederci bene e forti è di riconoscere il nostro peccato di orgoglio confessarlo abbandonarlo e iniziamo a vederci con umiltà secondo la verità di chi siamo ripetutamente e in vari modi Dio ci insegna ad avere un concetto sobrio di noi stessi per non essere ingannati per esempio in primo corinzi 3.18 il brano presume che possiamo facilmente ingannare noi stessi cioè viene dato presumendo questo è quello che siete capaci a fare questo brano parla dell'autoinganno quando uno si crede saggio agli occhi del mondo ma non lo è primo corinzi 3.18 nessuno inganni se stesso se qualcuno fra voi pensi ad essere savio in questa età diventi stolto affinché possa diventare savio il rischio è molto normale ma quando cadiamo nell'orgoglio di crederci più di quello che siamo ci porta ad una brutta caduta e la cura come qui è l'umiltà qui si vede uno che pensa ad essere savio in questa età cosa è quello in semplici termini io voglio vedermi bene davanti agli altri savio in questa età voglio vedermi furbo voglio vedermi incapace voglio vedermi bravo mi interessa anzi dove sta guardando questa persona se qualcuno fra voi pensa di essere savio in questa età a cosa pensa questa persona pensa a se stesso sta pensando a se stesso eh io sono abbastanza bravo ah guardo quanto sono dove sono arrivato eh le persone le persone mi apprezzano avete visto le persone mi apprezzano sono molto in gamba questa persona ha davanti a sé una grande caduta dice chi è così diventi stolto affinché possa diventare savio no chi sono io cosa cioè diventa stolto si rende conto umilmente della sua vera capacità e signore dipendo da te allora diventa veramente savio troviamo avvertimenti simili leggo due brani primo corinzi 8 2 poi galli di 6 3 dicono cose simili primo corinzi 8 2 ora se uno pensa di sapere qualche cosa non sa ancora nulla di come egli dovrebbe sapere e poi galli di 6 3 se infatti qualcuno pensa di essere qualche cosa non essendo nulla inganna se stesso state vedendo che la bibbia ci ripete più volte questa verità di non avere un concetto grande superiore di quello che è vero e quanto è pericoloso e quanto uno può auto ingannarsi e questo porta alla rovina è una cosa terribile auto ingannarsi perché se qualcun altro se qualcun altro mi inganna può darsi posso trovare un'altra voce che mi ha detto capire che lui mi sta ingannando ma quando inganniamo noi stessi è molto difficile per noi di ascoltare gli altri che vogliono avvertirci della nostra condizione nella carne vogliamo gloria vogliamo vederci bene vogliamo vederci capaci vogliamo essere inalzati agli occhi degli altri uomini ma anche se non usiamo il termine cercare gloria come si cerca gloria prima? si cerca gloria con l'intelligenza per una donna con la bellezza con un uomo con le sue capacità con il modo di essere prepotente nel parlare sempre avere le risposte essere bravo in quello che faccio ci sono tanti modi di cercare gloria ma quando una persona cerca gloria dagli uomini vuole essere visto bene dagli altri non può ricevere la gloria da Dio leggo quello che Gesù ci dice con un forte avvertimento in Giovanni 5,44 parlando della salvezza permesso di credere in Dio come potete voi credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo effettivamente Gesù sta dichiarando qui che quando noi cerchiamo gloria dagli uomini mi importa come gli altri mi vedono questo ci ostacola da veramente credere in Dio per la salvezza voler essere glorificato che in termini più comuni vuol dire voler essere visti bene dagli uomini come diciamo ci ostacola da credere veramente in Dio per la salvezza per mezzo di Gesù Cristo anche se riconosciamo le verità di Cristo io posso capire l'Evangelo posso essere d'accordo con l'Evangelo posso predicare l'Evangelo ma posso andare al lago di fuoco infatti c'erano dei capi dei giudei religiosi che aspettavano il Cristo il Messia e quando è venuto Gesù questi hanno detto è lui è lui il Cristo che può salvarci hanno capito hanno visto quello che diceva la Bibbia l'Antico Testamento come sarebbe stato hanno visto quello che ha fatto Gesù aveva detto lui è il Cristo ma sentite quello che dice la Bibbia di loro Giovanni 12 42 43 tuttavia anche tra i capi molti credettono in lui ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio che terribile che triste questi capi religiosi avevano capito che Gesù è il Cristo che poteva salvarli ma a loro importava la gloria degli uomini e visto che era stato dichiarato chi crede in lui sarà espulso dalla sinagoga scomunicato noi diremo loro preferivano la gloria degli uomini che la gloria di Dio e non confessavano Gesù pubblicamente Romani 10 dice che bisogna confessarlo con la bocca loro capivano e sono persi eternamente perché si vergognavano di Gesù perché non volevano perdere la stima dagli uomini che stoltezza io prego che stiate vedendo quanto ci porta un grave male nella vita quando il nostro orgoglio ci fa vederci superiore alla realtà ci vediamo meno colpevole o ci vediamo più bravi più capaci effettivamente è quando mi importa come gli altri mi vedono cioè a quel punto sono già perso quando mi importa come gli altri mi vedono quando questo mi importa vuol dire che io ho un concetto e se gli altri mi vedono meno il mio concetto sto male questo è il orgoglio qual è la soluzione come possiamo evitare questo terribile peccato di nuovo Dio non ci lascia soli con benevolenza Dio ci comanda come agire per non cadere o non restare in questo peccato così terribile infatti ci sono tanti brani che parlano di questo pericolo e ci sono tanti brani che parlano di come evitare questo piccolo questo è il cuore di Dio ci avverte del pericolo ma ci mostra la cura leggo un brano molto importante a riguardo che si trova in Romani 12 versetto 3 Romani 12 3 l'apostolo Paolo parla infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere un concetto più alto di quello che conviene avere ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno di nuovo notate che la nostra tendenza per cui Dio deve avvertirci è di avere un concetto troppo alto di noi stessi questo è dovuto al nostro orgoglio oltre al nostro orgoglio che è la causa maggiore la società di oggi cosa dice la società di oggi ai nostri figli se pensate la società le scuole i libri dicono ai nostri figli che voi potete fare qualunque cosa che sognate fare basta credere in te stesso avete mai letto storie di questo tipo cosa stanno dicendo tu sei bravissimo basta impegnarti e tu puoi arrivare in cima in qualunque campo che vuoi non se Dio non ti ha dato le capacità no non è vero quello è una menzogna è una menzogna eh ma bisogna stimolarli certo ma non con menzogne che alla fine lascia terribilmente deluse vengono detti che devono credere in loro stessi che non hanno limiti se hanno abbastanza fiducia in loro stessi e questo non è altro che aumentare l'orgoglio che c'è naturalmente ma Giorgino ha avuto volte più altri di me senti devi impegnarti ma non è detto che mai supererai Giorgino la cosa importante è per te rifare il tuo meglio lui è più veloce di me certo Dio gli ha dato le capacità naturali che non ha dato a te tu fai il tuo meglio ma non vedi l'orgoglio di voler essere il più forte il più veloce il più saggio dobbiamo aiutarli a capire senti non stai cercando di fare il tuo meglio stai cercando di essere il più bravo e che se tu puoi essere più bravo perché Dio girate più con meno del tuo meglio per te ti basta quello quindi questo è viva per la tua propria gloria caro mio e questo ti rovinerà Dio ci comanda a vivere al contrario di quello di non avere un concetto più alto di quello che conviene ai veri ma piuttosto di avere un concetto sobrio secondo alla misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno quindi quello che ho da Dio anche se mi ha dato molto è da Dio e non posso mica vantarmi di qualcosa che non viene da me è importante ricordare quell'ultimo punto che quello che abbiamo è da Dio cioè certo devo avere un concetto sobrio ma devo anche riconoscere che ho da Dio un concetto sobrio non è io non posso fare niente io non vago niente no non è quello un concetto sobrio devi avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno io devo riconoscere io non ho niente in me stesso ma io ho in base a quello che Dio mi ha dato ho delle capacità ho un certo livello di intelligenza ho delle opportunità ho dei doni ho dei talenti ho un certo livello di forza e voglio usare tutto per la gloria di Dio l'oppostolo Paolo era estremamente umile eppure riconosceva che aveva ricevuto da Dio certi doni e certe capacità tutto per grazia e quindi si impegnava ad usare quello che aveva ricevuto leggo due brani che ci mostrano che Paolo sapeva che aveva ricevuto certe cose da Dio ma attribuiva quello che aveva tutto alla gloria di Dio e che aveva per grazia leggo Efessini 3.8 e poi Colossesi 1.29 Efessini 3.8 a me il minimo di tutti i santi è stata data questa grazia di annunziare fra i gentili le imperscruttabili ricchezze di Cristo Poi Colossesi 1.29 E per questo mi affatico combattendo con la sua forza che opera in me con potenza In questi versetti come in tanti altri Paolo umilmente riconosce di essere per esempio il minimo di tutti i santi vedendo se stesso ma riconosce che aveva ricevuto da Dio la grazia di compiere quello che Dio aveva chiamato lui a compiere che era un'opera grandissima riconosceva la potenza di Dio che operava in lui Tu puoi fare quello Paolo è difficile Io non avrei mai potuto fare questo ma Dio mi dà la forza ed io mi metto da fare Riconosceva la sua piccolezza e la grandezza di Dio che operava in lui Quindi Paolo aveva un concetto sobrio di stesso secondo la misura della fede che Dio aveva distribuito a lui Questo è molto importante Così Paolo poteva impegnarsi nell'opera di Dio che potrebbe essere un lavoro grandissimo e duro come allevare uno o più figli Potrebbe essere di sopportare una prova difficile e lunga Potrebbe essere una testimonianza in un ambiente molto ostile e non vergognarmi di Cristo Quello che Dio mi chiama a fare mi dà Dio le capacità Quello che era vero per Paolo e per ogni uomo di Dio nella Bibbia è vero per ogni vero credente qua di noi stessi di noi stessi riconoscere riconosce che noi non abbiamo nulla in noi stessi per cui possiamo vantarci ma abbiamo della grazia di Dio che opera in noi e quindi tutto quello che abbiamo viene da Dio guai a noi cercare gloria per noi stessi o ricevere gloria dagli uomini leggiamo prima di tutto 1 Corinthians 4 7 che conosciamo un avvertimento contro cercare gloria per noi stessi perché non abbiamo merito di gloria e ci ricorda che abbiamo da Dio quindi 1 Corinthians 4 7 che cosa infatti ti rende diverso che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto e se l'hai ricevuto perché ti glori come se non l'avessi ricevuto poi passo ad Efessini 4 7 leggiamo che ad ognuno di noi che siamo salvati è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo abbiamo tutti delle capacità e dei doni ma è tutto da Dio non da noi stessi leggo Efessini 4 7 ma a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo abbiamo abbiamo tante cose abbiamo doni spirituali abbiamo capacità abbiamo intelligenza è un grave peccato mai vantarci eh sei bravo grazie quello è vantarmi uno dice sei bravo per me di rispondere grazie perché quello è perché accetto quella gloria io devo prendere lo specchio e quella gloria deve rivolgere in su verso Cristo wow sei veramente bravo in quello grazie a Dio viene da lui e prego che posso usarlo per la sua gloria quello serve in modo di rispondere ad un credente ma se un non credente dice che sono bravo come dovrei wow hai fatto un ottimo lavoro meriti quel premio no ho fatto un lavoro se quello che ho fatto è ottimo è perché Dio mi ha dato quelle capacità è lui che merita la gloria non io perché mi ha dato le capacità e la possibilità e le circostanze di fare quello quindi sono stato dato a quello a Dio la gloria questo è come bisogna rispondere ad un non credente quindi si risponde nello stesso modo non accettiamo gloria per noi stessi perché non abbiamo noi nulla che non abbiamo ricevuto da Dio ma abbiamo ricevuto purtroppo a volte pecchiamo dando spazio al nostro orgoglio vedendoci con qualche merito in questi casi abbiamo un concetto falso più alto di quello che dovrebbe essere crediamo ad essere più bravi di quello che stiamo ma io ho realmente fatto quello hai fatto quello perché Dio ti ha dato le capacità e tu non stai attribuendo a Dio quello che hai fatto un concetto più alto non vuol dire che credo di poter uccidere un leone vuol dire credere di farvi quello che ho già fatto ma non attribuire quello a Dio quello è un concetto troppo alto perché io sto credendo che sono io così bravo no grazie a Dio quello che ho fatto ho fatto ma è grazie a Dio quanto la nostra carne vuole gloria per noi stessi a volte crediamo di essere ad avere gloria a volte cerchiamo quella gloria facendo notare gli altri quanto siamo bravi parlando di noi stessi pensare così agire così cercando gloria è estremamente pericoloso infatti Gesù Cristo ci dà un fortissimo avvertimento contro questo grave peccato voglio leggere trovate con me Apocalisse capitolo 3 vogliamo leggere da 14 a 22 questo fa parte delle lettere che Cristo ha fatto scrivere per le sette chiese e qui è la sua lettera alla chiesa di Laudicea notate che questa chiesa aveva un concetto di sé troppo alto cioè si vedeva in buona condizione spirituale come sa grazie a Dio sto bene cioè io sto guardando a Dio sto camminando in Dio ma non era messa così bene tenete in mente che questo brano è un paragone per ognuno di noi di misurarci e considerare la nostra condizione notate le conseguenze terribili che Gesù dichiara a questa chiesa leggo da Apocalisse 3 dice 4 no 14 leggo da Apocalisse 3 14 e all'angelo della chiesa in Laudicea scrivi queste cose dice l'amen il testimone fedele e verace il principio della creazione di Dio io conosco le tue opere che tu non sei né freddo né caldo o fossi tu freddo o caldo così perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo io sto per vomitarti dalla mia bocca poiché tu dici io sono ricco mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla e non sai che tu sei quello che è disgraziato e miserabile povero cieco e nudo ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato col fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per coprirti e non far aprire così la vergogna della tua nudità e di ungetti gli occhi con del colirio affinché tu veda io riprendo e castigo tutti quelli che amo abbi dunque zelo e ravvediti ecco io sto alla porta e busso se qualcuno ode la mia voce e apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col padre mio sul suo trono chi ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese avete sentito questo terribile avvertimento Gesù Cristo dichiara che vomiterà questi credenti dalla sua bocca è una sentenza terribile e spaventevole è una chiesa e Gesù dice io vi vomiterò fuori dalla mia bocca cosa quando quando vomitiamo non è un bel discorso ma quando è che vomitiamo quando abbiamo della robaccia dentro e l'unico modo di stare meglio è di farlo uscire io ho difficoltà a vomitare e ci sono state tante volte che non sono riuscito a vomitare e quelle poche volte che sono riuscito era una tragedia mi vogliono ore ma quando vomito sto tanto meglio perché quello che mi faceva star male esce e sto meglio e Gesù sta dicendo voi mi fate star male sto per vomitarvi fuori dalla mia bocca per quale motivo? perché loro si vedevano bene loro si vedevano spiritualmente bene ecco il senso di ah ma io sono ricco mi sono arricchito non ho bisogno di nulla e Cristo dice tu non sai quanto sei nei guai quanto sei messa male tu non capisci ma hai bisogno di capire hai bisogno di essere disperato hai bisogno di capire signore sto male voglio collirio voglio vesti bianche voglio oro raffinato dammi tutte queste cose perché sono povero questo è l'unica via per stare bene infatti io sono colpito dalla misericordia di Gesù perché sta dando a loro la possibilità di ravvedersi in quella condizione avrebbe avuto ogni motivo di solo scacciarli subito invece con grande misericordia gli ha tenuto in vita e gli sta dando ancora la possibilità di ravvedersi non rimandare le possibilità che Cristo ti dà perché non è mai detto che ci sarà un'altra possibilità dopo oggi per chi si umilia c'è perdono c'è purificazione del peccato ci sono tantissimi altri brani nella Bibbia che ci avvertono del peccato di avere un concetto troppo alto di noi stessi ovvero orgoglio e come ci porta la caduta una caduta dolorosa e percolosa per esempio primo correnzi 10 c'è un brano che elenca varie delle cadute di Israele nel deserto dopo la liberazione dall'Egitto e come Dio aveva punito loro per vari peccati tipo lamentarsi fornegazione ed altri idolatria poi dopo questi brani che sono stati dati per il nostro ammonimento dice per svegliarci per farci stare attenti ci dà un versetto primo correnzi 10 12 che dice perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere cioè se tu pensi ma io sto bene e non stai veramente bene e non riconosci quanto hai bisogno di regrapparti a Cristo attenzione stai per cadere e Dio non vuole questo per questo ci avverti in proverbi 16 18 vi leggo io prima della rovina viene l'orgoglio e prima della caduta lo spirito altero quella persona quel credente che si vede bene quando non sta bene ha davanti qualcosa di terribile se non si ravvede chi cerca di inalzarsi chi si preoccupa di come viene visto dagli altri che ha un concetto troppo alto di se stesso sta su una strada percolosa la gloria che noi possiamo ricevere dagli uomini e possiamo scusami se tu ti impegni tu puoi essere molto inalzato dal mondo ricevere tanti complimenti puoi avere tante persone wow sei stato bravo tu te lo merito oh sei bravissimo non è difficile vivere così quanto vale quella gloria pensate quanto vale quella gloria quanto vale quando viviamo cercando la gloria degli uomini e riceviamo quella gloria proverbi 25 27 mangiare troppo miele non è bene e ricercare la propria gloria non è gloria ricercare la propria gloria non è gloria è una cosa che non vale niente è come una casa fatta di fumo è lì ma non c'è sostanza non ci porta alcun vero beneficio infatti in Giacomo 4 6 leggiamo che Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili leggo questo versetto importante ricordando che rispecchia la verità che vediamo dappertutto nella Bibbia Giacomo 4 6 egli qui è Dio ma egli dà una grazia ancora più grande perciò dice Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili chi ha un concerto troppo alto di se stesso chi ci tiene essere visto bene dagli uomini troverà Dio contro di lui troverà Dio contro di lui non c'è scampo se Dio è contro di te Dio dà grazia agli umili li benedice li cura teneramente appiana la loro via li protegge farà prosperare quello che fanno questo è come Dio tratta gli umili invece lui resiste quelli che sono superbi questo brano come tantissimi altri brani ci insegna che è vero anche il contrario cioè Dio resiste i superbi quindi è vero che Dio cura gli umili ma è vero anche che Dio resiste ai superbi e non solo non benedice cioè quello sarebbe già terribile se Dio ritira la mano delle benedizioni è già terribile ma non solo ritira la mano delle benedizioni ma resiste ostacola il loro progresso li fa cadere rovina quello che cercano di fare Dio è geloso per la sua gloria e quando qualcuno cerca di innalzare se stesso Dio resiste a quella persona alla luce di tutto questo come dobbiamo vivere? abbiamo già visto ripetutamente che dobbiamo abbandonare rinunciare confessare il nostro orgoglio dobbiamo confessare questo peccato terribile ogni volta che si alza la sua testa e ci troviamo di nuovo cercando gloria per noi stessi dobbiamo confessare quello anziché vivere cercando gloria per noi stessi anziché avere un concetto troppo alto dobbiamo camminare umilmente cercando la gloria di Dio e cercando il bene del popolo di Dio dobbiamo seguire l'esempio di Gesù Cristo voglio leggere l'esempio di Gesù Cristo in Filippesi 2 1 ad 11 se dunque vi è qualche consolazione in Cristo se qualche conforto di amore se qualche comunione di spirito se qualche tenerezza e compassione rendete perfetta la mia gioia avendo uno stesso modo di pensare uno stesso amore un solo accordo e una sola mente non facendo nulla per rivalità o vana gloria ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse ma anche quello degli altri perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù il quale essendo in forma di Dio non considerò rapina l'essere uguale a Dio ma anichilì se stesso prendendo la forma di servo rivenendo simile agli uomini e trovato nell'esteriore dissimilare un uomo abbassò se stesso divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce perciò anche Dio lo ha sovranamente inalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni genocchio delle creature celesti terrestri e sottranie e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre abbiamo visto chiaramente che è fondamentale non avere un concetto più alto di quello giusto abbiamo visto però un'altra verità e ho menzionato ma voglio ritornare lì una verità fondamentale nella vita cristiana ciò è importantissimo ricordare per poter usarlo per la gloria di Dio ad ognuno di noi è stata data una misura della grazia di Dio questo è fondamentale vivere questa verità ad ognuno di noi è stata data una misura della grazia di Dio per il bene comune bisogna usare quello che abbiamo ricevuto per il bene del corpo di Cristo infatti il comandamento di avere un concetto sobrio in Romani 12.3 e voglio leggere quello di nuovo e andando avanti riguarda specificamente il riconoscere e usare i nostri doni spirituali non dobbiamo oh falsa umiltà io non valgo nulla io non valgo nulla io non posso fare nulla quello è orgoglio cioè una persona che dice io faccio schifo io faccio schifo quello è sempre orgoglio una persona umile non direbbe mai io faccio schifo perché una persona umile non pensa a se stesso l'unica persona che mai dicono eh ho fatto male non riesco a fare bene l'unica persona che dicono quello sono persone pieno di orgoglio pensate se io mi vedo che non sono capaci in quel campo io so io non riesco a fare e sono costretto a fare e non faccio cioè vieni male non so lì ho fatto male no non sono capace non mi vergogno ma se io mi vedo bravo e faccio e vieni male come reagisco oh non riesco a fare sono agitato e io voglio soprattutto se non era malissimo eh non faccio niente bene no dai non era così male io sto pescando cercandogli i complimenti una persona che parla male di se stesso è orgogliosa e sta pescando per complimenti dai non sei così messa male non è mica male quello che hai fatto dai hai fatto abbastanza bene una persona umile prima di tutto non pensa a se stesso non pensa a come ha fatto vive per la gloria di Dio e per i beni degli altri quello che può fare fa allora è importantissimo capire quello che Dio mi ha dato perché se io non riconosco quello che mi ha dato non mi metto da fare devo mettermi da fare ma devo riconoscere quello che ho fatto qualche settimana fa qualcuno ha guidato il culto io sono rimasto molto edificato fratello Dio ti ha dato capacità in questo campo era buono dire non lo sapevo ma sento vari commenti è così allora signore voglio usare quello per te devo riconoscere quello che ho da Dio avere un concetto sobrio allora voglio rileggere i romani 12.3 però questa volta voglio proseguire fino a versetto 8 e quindi un concetto sobrio è riconoscere quello che ho per adoperarlo leggo questo riguarda in questo campo i doni spirituali romani 12 da 3 a 8 infatti per la grazia che mi è stata data dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere un concetto più alto di quello che conviene avere ma di avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno infatti come in uno stesso corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione così noi che siamo molti siamo un medesimo corpo in Cristo e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro ora avendo noi doni differenti secondo la grazia che ci è stata data se abbiamo profezia profetiziamo secondo la proporzione della fede un concetto sobrio Paolo stesso spiega quello che intende Signore Tu mi hai dato questa capacità questo dono spirituale allora mi metto da fare per usarlo per il bene del corpo di Cristo ci sono parole ci sono doni di parola e ci sono parole di opere e a volte uno potrebbe avere tutti e due alcuni di questi alcuni di quelli che cosa hai adoperati per il bene del corpo questo è un concetto sobrio lui dice ognuno abbia un concetto sobrio e subito dice se tu hai ricevuto la grazia di profetizzare profetizza sei di avere ministero lo fai sei di presidere fai quello così via quando Dio ci salva ci fa diventare parte del corpo di Cristo e quindi parte degli altri credenti legati gli uni agli altri e per questo dobbiamo usare quello che Dio ci ha dato perché Dio edifica il corpo quando ogni membro ben legato tutti insieme da del vigore di una singola parte così il corpo cresce insieme verso il capo Cristo quindi è essenziale per ogni credente di riconoscere quello che abbiamo ricevuto da Dio per poter usarlo ma come posso riconoscere prima mettendomi da fare e man mano le persone cominciano a dire sai che sei stato di grandi benedizioni se uno cerca di parlare di Dio e dopo un po' non riceve i commenti sai questo non è il mio dono ma quando dà un aiuto pratico sei stato di grandi aiuto ho ringraziato Dio tanto per te allora Dio mi ha dato doni in questo campo un altro porta una parola in semplicità o fratello o sorella è stata grande edificazione grazie che mi hai condiviso quello e succede volta dopo volta comincio a riconoscere Dio tu mi hai dato questo allora mi metto da fare sono gli altri che ci aiutano a capire quello che Dio ci ha dato non è che io decido io ho il dono di fare questo e sono anche bravo no sono anche ingannato gli altri devono riconoscere quindi si riconoscono i doni esercitando tutto quello che posso fare e quello che è da Dio viene a galla quindi tu che sei credente tu hai doni spirituali tu hai capacità naturali che vengono da Dio tu hai intelligenza tu hai tempo tu hai soldi tu hai forza tu hai opportunità che Dio ti ha dato cosa stai facendo con quello che tu hai ricevuto da Dio stai vivendo per te stesso o stai vivendo per edificare gli altri stai cercando quella vita più comoda a te o stai vivendo quella vita che porta più beneficio agli altri in 1 Corinti 14 12 Paolo parlando dei doni spirituali dice così anche voi poiché siete desiderosi di avere i doni spirituali cercati di abbondarne per l'edificazione della chiesa signore io voglio essere usato per edificare gli altri questo è il cuore di avere 1 Pietro 4 10 11 1 Pietro 4 10 11 ciascuno secondo il dono che ha ricevuto lo mette al servizio degli altri come i buoni amministratori della multiforme grazie di Dio se uno parla lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio se uno fa un servizio lo faccio nella forza che gli è fornita da Dio affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli Amen Dio ha dato a te dei doni delle capacità della forza dell'intelligenza delle circostanze e Dio ti comanda a mettere quello che hai ricevuto perché tutto parte la sua grazia per te al servizio degli altri eh ma scusami chi pensa a me gli altri tu pensi a loro loro pensano a te eh ma non sempre fanno la loro parte allora confida in Dio confida in Dio confida in Dio quando noi viviamo così cosa succede? io non posso mai crescere da solo quanto posso crescere quando vengo edificato dagli altri credenti abbiamo bisogno di essere strettamente legati fra di noi il culto è bello ma il culto non basta abbiamo bisogno di tempo insieme di condividere insieme parlare insieme ho bisogno di esprimere i miei pensieri che gli altri possano di Marco hai ragionamenti storti sì certo non vedevo non vediamo noi stessi abbiamo bisogno di sentire le verità che gli altri hanno visto che queste settimane io non ho visto che mi stimola a vedere più di Dio stamattina io ho visto più dell'amore di Dio ho visto più varie cose di quello che avevo visto io perché sentendo voi sì signore è vero sì signore è vero allora non dobbiamo vedere questo come un pesante dovere vivere così piuttosto questo è un privilegio immenso quando viviamo per la gloria di Dio siamo coperti noi con quella gloria entriamo nella nuvola con Dio quando viviamo per la gloria di Dio siamo parte di un'opera eterna gloriosa e maestosa quanto è importante quindi per ognuno di noi di riconoscere che qualsiasi gloria che potremmo ricevere dagli uomini prima di tutto in sé non vale nulla se non lo rispecchiamo che va a Dio la vera gloria qual è la cosa più gloriosa che tu puoi fare? vuoi una vita che conta? qual è la cosa più grande che tu puoi fare? essere uno strumento nelle mani del Dio eterno nella sua opera eterna un uomo che riesce a farsi un grande lavoro ad essere molto apprezzato dagli altri magari scrive un libro fa un'azienda quello che vuole fare oh tanti apprezzamenti con amore che importa? un uomo che viene usato da Dio per portare persone alla salvezza eterna quello ha fatto qualcosa che vale per la vita e per l'eternità cercare gloria per noi stessi avendo un concetto più alto di quello che è sobrio è vivere è una menzogna ed è una vita sprecata che porterà ad una grande e amara delusione invece che immenso privilegio quando riconosciamo quello che Dio ci ha dato e adoperare tutto quello che abbiamo che siamo per la gloria di Dio questo è fantastico come individui questo è lo scopo del matrimonio alla luce di tutto questo io voglio invitare ciascuno a valutare la propria vita tu che ti chiami credente che concetto hai di te stesso hai un concetto sobrio cerchi o accetti gloria dagli uomini oppure vivi solamente per la gloria di Dio nel modo di parlare nel modo di vestirti nel modo di comportarti nelle scelte che fai stai cercando gloria dagli uomini o stai cercando di portare gloria a Dio per avere un concetto sobrio occorrono due cose prima bisogna non avere un concetto più alto di quello che è giusto di non vederci come se avessimo qualche vanto in noi stessi è un grave peccato inalzarci ma serve anche per avere un concetto sobrio riconoscere quello che abbiamo ricevuto per me sono le grazie di Dio non è umiltà negare i doni che Dio mi ha dato non è umiltà negare i doni che Dio mi ha dato voglio umilmente riconoscere signore mi hai dato questo allora è da usare e vogliamo fare quello io non dobbiamo mai confrontarci io ho un dono di insegnare ci sono tanti che insegnano molto meglio di me ma non importa io devo essere fedeli con quello che io ho non devo confrontarmi io ascolto vari uomini di Dio dico io non predicarò mai così era vero hanno una quantità di grazie più grandi ma io voglio essere fedeli con quello che ho e prego che ognuno vorrà essere fedeli con quello che ha alla gloria di Dio prendendo ogni decisione come vivere dove vivere come passare il tempo con chi parlare di cosa parlare vivendo per la gloria di Dio edificando il corpo di Cristo Gesù questo è un concetto sobrio questa è una vita benedetta o che possiamo essere un popolo così per innalzare la gloria del nostro Signore Gesù Cristo in attesa di vederlo Padre nostro a noi è stata data grazia tanta grazia la grazia più grande è il perdono in Gesù Cristo il perdono dalla nostra colpa dalla nostra la nostra condanna l'essere presi e fatti diventare figli di Dio anziché i figli di era che eravamo abbiamo ricevuto la grazia di avere Gesù Cristo come Somme Sacerdote per mezzo del quale abbiamo libero accesso altronde la grazia per essere soccorsi e aiutati nei momenti di bisogno abbiamo lo Spirito Santo che intercede per noi come anche Cristo stesso abbiamo le promesse meravigliose tutti che vengono adempiuti in Cristo abbiamo questa grazia abbiamo grazia sopra grazia e fra queste grazie abbiamo adesso che tu ci hai strappato dalle tenebre ci hai portato nel regno del tuo figlio abbiamo raggrazie dei veri doni capacità intelligenza forza tempo soldi opportunità che possiamo usare per la tua gloria questo si è un privilegio padre gli uomini di natura vivono per quello che alla fine perderanno non importa quanto grande il monumento che possono stabilire di successo di apprezzamento degli uomini di aver raggiunto traguardi alla morte se è terrena sarà persa per sempre invece in Cristo Gesù possiamo edificare sul fondamento di Gesù Cristo qualcosa che resisterà il giudizio e porterà gloria a te e gioia a noi per tutta l'eternità oh Signore grazie per questa grazia quindi mostrici il nostro peccato ogni volta che si inalza la testa il nostro orgoglio ogni volta che abbiamo un concetto di noi stessi troppo alto troppo alto oh Padre mostrici la gravità di questo peccato che possiamo confessarlo abbandonarlo e piuttosto avere un concetto sobrio secondo la misura della fede che tu hai distribuito a noi e grazie per questo privilegio di aver ricevuto questa fede questa grazia per vivere per qualcosa che conta e vogliamo fare quello glorificati ti prego in noi nel nome di Gesù Cristo Amen